Stai bene, Joshua. Meglio di prima. Ma non abbastanza, questo è certo. I tagli e le ustioni sono guariti, ma il tuo corpo risente ancora di ogni incantesimo che hai lanciato. E che cosa potevo fare? Non abbiamo affrontato un nemico qualsiasi. Era il guardiano dell'oscurità. Ma comunque non è bastato. Il re poteva finirmi quando voleva, invece ha scelto di giocare con me come uno jaguaro con un topo. Tu... tu ti sottovaluti. Non c'era alcun dubbio. Soltanto un uomo ha imposto il suo dominio quel giorno, e quell'uomo era Barnabas. Mi spiace, fratello. Non è. Dovevo dirlo. E che mi sono sentito così impotente, proprio ora che tutti contano su di noi. Forse... Forse anche il principe si sente così. Forse anche il fuente... Forse anche il principe si sente così. No, no, no. Dove mi trovo? Firmo! Ecco, viene dal pozzo. No, no. 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 Il demone lavora nell'ombra. Sei stato tu a guidare la mia mano, quindi, ultima. No. No. Non eri tu. Sono stato io. È mia la colpa. Mio, il fardello. E per questo dovrò espiare. Le vostre ferite guariscono. I miei unguenti devono aver fatto effetto. Li prepari tu? E li vendo, o ci provo. Ci guadagno da vivere, di solito. Perdonami, io non ho niente per... Lo so, ma non potevo lasciarvi lì in quel modo. Andrete, dunque. Per forza. Sono guarito. Grazie a te e a quegli unguenti. Promettete di tornare a farmi visita? La stracione della squadra. Per forza. Per forza. Bene, Fenice, sembrerebbe proprio che ti debba le mie ali. Magari troverà una risposta. Presto tornerai a Walud, immagino. Non ho motivo di attendere. Nemmeno io. Io di motivi ne avrei, ma non vi fermeranno. Prendete le medicine, almeno. Ma certo, l'editaria. Già pronti a ripartire, eh? Quanto ci vorrà per tornare a Cineria? Non so circa quanto ci abbia messo per venire qui. Anche meno se vostro zio trova qualcuno che può rattoppare l'Enterprise. Tutto dipende da dove attraccheremo, però. Già, non è che possiamo sbarcare dove vogliamo. Dobbiamo supporre che tutta Cineria sia ostile. E che ci attaccheranno a vista. Servirà un approdo incustodito. Forse so chi può indicarcelo. La professoressa! Corro ad avvisarla! Mentre pianificate la rotta, andrò dal saggio alle librerie. Voglio la sua opinione su Ultima. Parlerò a Karon delle scorte per il viaggio. Non ne troveremo molte a Cineria. Il corpo di tuo fratello non potrà reggere questi ritmi. Questo lo sai, non è vero? Lo sai. Per me era un complimento. Ah, Clive! Mi chiedevo quando saresti arrivato. Ti prego, dimmi che sei venuto fin qui per liberarmi dal nostro giovane prodigio. Non cerco Mead, ma informazioni su Cineria. Allora chiedi a Molly di mostrarti la cenere nel suo forno. Dimmi pure. Quando l'Enterprise sarà pronta, salperemo per d'orso di Drago. Dovremmo sbarcare in un luogo sicuro. Magari un luogo che non trasformi la mia nave in un relitto. Se fosse davvero così semplice, credi che Vualud avrebbe resistito tanto all'invasione? Sappiamo molto poco su Cineria. E le informazioni che abbiamo sono frammentate e ormai obsolete. Dobbiamo ringraziare Re Barnabas per questo. Da quando è salito al trono, i confini waludiani sono rimasti chiusi ai forestieri. Se esiste un luogo sicuro per sbarcare, non sarà sulla mia mappa. Ma dici cosa troveremo. Di certo ne sai più di noi. Niente relitti, vero? Va bene, va bene. Se servirà a liberarmi di voi. Ma se mi interrompete, è finita. Intesi? Barnabas Talmr, colui che chiamano l'ultimo re. Se comprendi lui, allora riuscirai a comprendere tutto il regno di Walud. Barnabas era soltanto un bambino quando è arrivato da oltre i mari del sud. E ha malapena un uomo quando ha unito le eterogenee tribù di Cineria. E dopo averle scagliate contro Veldermark, ha stabilito il proprio trono tra le antiche rovine del regno. La sua vittoria riuscì a scuotere tutta Valistea. I racconti della postanza di Odino fecero il giro di tutte le corti, i salotti e le bettole del regno. Nota che stiamo parlando dell'anno 843. E che il re siede ancora lì, sul suo trono, ben 40 anni dopo. Quasi immutato dal tempo. Data la recente inattività di Walud, molti pensavano che Odino non avesse più interesse per la guerra. E invece eccoci qua. La Ayn Harrier si è schierata in prima fila. Un'audace dichiarazione d'intenti. Gli orchi sciamano a zanna di drago e orde di Akashic infestano le strade del Camber. Ma come il caos che seminano possa essere utile a Walud? Ancora non lo sappiamo. Ciononostante, se l'ordine d'attacco è giunto direttamente da Re Barnabas, sicuramente una cosa è certa. Walud è riuscita a compiere l'impossibile. cioè si è alleata con gli uomini bestia e i corrotti dall'etere al contempo. Che è un modo indiretto di dire che vi ritroverete in una situazione ignota una volta messo piede su Cineria. Buona parte del continente è già stata invasa dalla piaga e quei pochi porti rimasti sono pesantemente sorvegliati. Per non parlare di tutte le sue difese naturali, le correnti di risacca spingono le navi impreparate verso il mare aperto e il momento dopo contro le rocce delle coste. Ma è da dire che l'Enterprise non è certo impreparata e che Mead è già approdata a Cineria in passato. Adesso, se solo avessimo con noi qualcuno che conosca bene la costa ombrosa e i punti in cui un uomo intraprendente possa sbarcare... Visto, Clive, avevi già la risposta. Puoi riportarci su quella spiaggia, Mead. Ti ho raccattato, no? È stato difficile, le correnti sorrognose. Ma sai, fosse facile, che gusto ci sarebbe? Ben detto. Grazie, Lady Vivian. Se qualche buon consiglio e delle chiacchiere da taverna meritano tanti ringraziamenti da parte tua, chissà cosa mi procurerebbe un maggiore uso dell'intelletto. Forse altre visite. Mead, voglio tutti nella sala comune. Ora vado a chiamare anche Joshua. Sì, capitano! Sono tutti i piani di ferite e vernovole. Non ho motivo di pensare al... Clive, questo lo devi sentire. Saggio, prego. Ricordi quando abbiamo parlato della natura divina di Ultima? Beh, da allora ho approfondito molto l'argomento. E le mie scoperte sembrano concordare con quelle di sua grazia. Ricorderai che le mie ricerche sulle origini di Ultima sono iniziate dall'affresco di Porta Fenice. Ma per quanto lo ritenessi importante, i suoi segreti continuavano a sfuggirmi. Ora, però, io credo di sapere dove trovarne un esemplare completo. Quello che ci darà tutte le risposte. Mastro Clive, per caso nei tuoi viaggi hai sentito parlare del circolo di Malius? Suppongo di no, dico bene? Questa fede prosperava, era la religione più antica dei regni gemelli. E sebbene alla fine essa scomparve da Ciclonia, accenni della sua dottrina sono rimasti inculti quali gli ortodossi dei cristalli. Dici che è scomparsa da Ciclonia? E da Cineria? Quando emergono nuove religioni, molto spesso i loro vecchi monumenti vengono abbattuti o riadattati. Ma, in assenza di nuovi culti, forse gli antichi templi potrebbero persino essere rimasti intatti. Quindi, capisci ora, capisci perché devo accompagnarti a Walud? Sembra che il passato abbia ancora molto da insegnarci. Sarebbe stato impossibile senza le riflessioni di Moss. Pensare che non vi siete mai separato dagli iscritti del mio vecchio mentore. È un vero sollievo saperli in buone mani. Li proteggerò con la vita. Joshua, vieni nella sala comune se hai finito. Ho intenzione di parlare con tutti. Certo. Mi ha detto che potrà guidare l'inter... Chiedo scusa. Ormai sapete tutti dove andremo e perché. Quindi non vi darò i dettagli noiosi. Solo quelli importanti. Se proviamo ad avvicinarci a Stonir via mare, potremmo essere avvistati e cadere vittime dell'artiglieria nemica. Dunque, sarà meglio che noi sbarchiamo sulla costa sud-ovest e raggiungiamo Dorso di Drago a piedi. Ho detto noi, ma... È molto probabile che tutta Cineria sia sotto il controllo di Ultima. Un gruppo numeroso attirerebbe troppa attenzione. Rallenterebbe la nostra marcia e richiederebbe rifornimenti difficili da ottenere. Quindi, andremo soltanto io e Joshua. È uno scout. Meglio se abile. Gav, tu ne conosci uno. Puoi scommetterci le chiappe. Ma vorrei comunque prendere in prestito qualche mappa di Lady Vivian. Giusto per sicurezza. Quando ci avrete lasciati sulla costa, dovrete ritirarvi in acque neutrali. Battete bandiera mercantile e non date nell'occhio. Se sentite che qualcosa non va, lasciateci lì e tornate a Ciclonia. Discrezione è il mio secondo nome. Ma col cavolo che abbandono qualcuno. Non ci muoveremo finché i vostri brutti musi non saranno a bordo. Jill, l'Enterprise sembrerà un bersaglio facile sia per i realisti che per i pirati. Dovrai impedire che venga abbordata. Non preoccuparti. Terrò al sicuro nave ed equipaggio. Vi occorrerà un passaggio a casa, dopo tutto. Ma... Molto bene. Se non ci sono domande, ci vediamo tutti al molo. Prima che tu te ne vada, ho bisogno di parlarti. Certo. 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 Qualcosa non va. Per niente. Eh dai! Non si può più salutare un amico. Volevo solo dirti che terrò tutto in ordine, mentre tu salverai il mondo. Ti prendo in parola. Per niente. 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 Per niente.